L'attivazione e l'inaugurazione del data center in comuni di Ferrara rappresenta un duplice vantaggio, un vantaggio per gli enti pubblici perché oggi il trattamento, il ricovero, la sicurezza dei dati è uno degli elementi qualificanti, il servizio che si dà ai cittadini, quindi avere una struttura di livello internazionale a Ferrara che assicura agli enti locali, ma non solo agli enti locali, ma a tutti gli enti pubblici, un sistema strutturato, efficiente, energeticamente all'avanguardia per il trattamento dei dati, rappresenta sicuramente un elemento di competitività che significa per noi servire meglio i cittadini, ma rappresenta anche per la città un luogo nel quale anche il mondo privato, il mondo delle imprese, che ha sul trattamento dei dati, oggi uno degli elementi che concorrono a rappresentare la concorrenza, cioè la capacità di stare sul mercato per tante imprese, è sicuramente un elemento che qualifica il nostro territorio. Poi ci sono elementi che sono quelli che attengono alla riqualificazione di quest'area, all'investimento che è fatto sulla città, che sono comunque elementi certamente non secondari, ma in primo luogo diciamo che Ferrara si colloca anche con questo in un alto livello di servizio all'impresa e alla città. Questo è il terzo data center regionale che l'Epida realizza. Siamo partiti da Ravenna, siamo andati a Parma e poi siamo arrivati a Ferrara. Questo è un data center di mille metri quadri come dimensione lorda, è un data center qui a Ferrara che permette di avere sia tutti gli enti del territorio dell'Emilia Romagna, di fare backup e disaster recovery rispetto agli altri data center, ma anche di avere una nuova capacità di calcolo, una nuova capacità di storage per tutti gli enti, fatemi dire, non solo del territorio ma anche sovraterritoriali, perché grazie a questo terzo data center noi arriviamo a un meccanismo di ridondanza territoriale che ci permette complessivamente di poterci qualificare come polo strategico per i data center nel territorio. Abbiamo in questo momento oltre 110 enti che stanno lavorando nei nostri data center e oltre 4 petabyte di storage e con questo sicuramente aumenteremo almeno di un terzo. Questa è un'altra importante realizzazione, è il terzo data center della regione, in un territorio dove questo può diventare anche un fattore competitivo da un punto di vista del sistema economico e ovviamente delle attese dei cittadini. In questo modo noi completiamo un quadro regionale dove i data center si configurano come l'elemento di garanzia di qualità della rete, della messa in sicurezza dei dati della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione dell'Emilia Romagna che a questo punto è sempre più competitiva, cioè offre ciò che i cittadini chiedono anche in termini di innovazione digitale, di accessibilità, di velocità dei servizi. Contemporaneamente abbiamo dato anche una mano al comune di Ferrara ringraziandolo per la disponibilità dell'immobile per riqualificare una zona molto importante. Il sito di Ferrara rappresenta uno dei nodi della rete di data center regionali al servizio delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale. Non è solo un luogo di archiviazione di file, di documenti digitali, ma rappresenta un vero e proprio cuore pulsante dei servizi che la regione e il sistema degli enti della regione forniscono a cittadini e imprese sempre più improntati all'innovazione, alla ricerca, al miglioramento della qualità della vita di cittadini e imprese. Con questo sito Ferrara si colloca quindi al centro di questa rete e diventa un vero e proprio cuore pulsante del sistema. L'inaugurazione del data center di Ferrara è oggi per noi una grande opportunità. La necessità di avere un luogo nel quale poter gestire l'elemento più prezioso che oggi le imprese hanno, che è il dato, è irrinunciabile per il sistema delle imprese. Si parla di capacità di potenza elaborativa, si parla di capacità di memorizzazione e in particolare si parla di salvaguardia del dato, quindi i temi del backup e del disaster recovery sono centrali in questo senso. Con questo data center intendiamo accompagnare le aziende del nostro territorio e quelle dei territori limitrofi verso il processo di digitalizzazione, verso l'irrinunciabile necessità che hanno le imprese di abbracciare il tema del digitale, dei temi dell'industria 4.0 e di tutti i servizi annessi a quella che è riconosciuta da tutti come la quarta rivoluzione industriale.